Potente appara ragazzi, qua Vox, lo GioMigad, oggi sono al sole e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi, è la recensione, è la recensione di quel giocatore, di quale giocatore ragazzi Oggi 6 aprile del 2014, ho l'onore di presentarvi la recensione italiana di Pelé ragazzi Vi dico solo Pelé perché il suo nome è tipo lungo 4 frasi e non sono stato lì a ricordarmelo Comunque oggi sono strafelicissimo perché appunto ho avuto anche il tempo di farla Perché come sapete io avevo scherzo la pagina Facebook e appunto non avrei avuto il tempo di farla Però ce l'ho avuto e quindi è una cosa anche abbastanza tattica Ed ora eccomi qui Prima di iniziare ragazzi volevo ringraziare ancora o meglio come sempre Stra ringraziare FIFA CoinStash che mi ha dato appunto l'opportunità di provare di utilizzare questo giocatore FIFA CoinStash è quel sito che io consiglio se avete intenzione oppure se volete di comprare crediti di FIFA Quindi passate in descrizione se siete interessati E io direi anche di partire innanzitutto Pelé Ah no eccolo qua il nome Il magico non è lui mannaggia la salsiccia che ho fatto Ok il magico Edson Arantes Nascimento No aveva anche un duo di mezzo eh Vabbè si starà sbagliando FIFA Comunque Pelé ragazzi inizio già subito a dirvi un problema Pelé è un po' vecchiotto infatti ha 74 anni No a parte gli scherzi comunque no beh è nato 23 ottobre del 1940 Quindi pensate che roba abbastanza tattica Pelé che in 10 l'ha utilizzato per 17 partite e mi ha fatto 23 gol 4 stelle di piede debole 5 stelle di mossa abilità Piede per abilito destro Workitz alto e basso 174 centimetri Innanzitutto qual è la peculiarità di Pelé Pelé ragazzi è il giocatore valutato o meglio con un rating più alto di tutto FIFA Non contando le varie versioni in forma di Messi e Cristiano Ronaldo Come anche le loro versioni Team of the Year E già questa mi sembra una sua caratteristica abbastanza bella Ma vogliamo dire solo questo? No non diciamolo Perché infatti guardate anche il valore di tutte le sue caratteristiche Se non mi sbaglio è secondo solo a Gullit Infatti Gullit è quel giocatore che ha tutte le caratteristiche su carta maggiori dell'80 Però andiamo a vedere quelle di Pelé Pelé si presenta con 95 di velocità 88 di tiro 87 di passaggio 93 di dribbling 64 di difesa E 81 di colpo di testa E questo ci fa capire che è già un giocatore fortissimo Però ragazzi Prima di iniziare appunto di presentare le sue statistiche in game Vi devo dire una cosa Ho trovato dei contro in questo giocatore Infatti Secondo me Non è il miglior giocatore di tutto FIFA Ma adesso partiamo subito con le statistiche in game Allora ragazzi Come potete ben vedere O meglio dopo vi farò anche vedere le statistiche su FUTED Pelé ha delle statistiche fenomenali Cioè praticamente è quasi impossibile trovare dei difetti Però Uno andando avanti Guardando le sue statistiche appunto fisiche Possiamo vedere Che di forma Di forza fisica Non ha una buona statistica Infatti ha solamente 72 E già qua nasce il primo problema Perché voi come sapete Io ho una mia idea particolare di FIFA Praticamente I giocatori forti su questo gioco Sono ovviamente i buggati Oppure quei giocatori che hanno una buona agilità E una buona forza fisica Infatti in questo gioco Conta moltissimo la forza fisica Primo problema di Pelé Pelé ragazzi ha solamente 72 di forza fisica Questa cosa non è buona Perché? Perché come sapete Io adoro il 4x3 come modulo Solamente se ci utilizzano i giocatori giusti Infatti Come vi avevo già detto nella recensione di Ibrahimovic Io amavo Ibrahimovic Perché aveva Un'agilità pazzesca E 99 di forza fisica O 98 E quindi Era la punta di sfondamento per eccellenza Stessa cosa non la si può dire per Pelé Infatti Inizio subito col dirvi Che il modulo con cui io lo consiglio Non è un 4x3 Come l'avevo utilizzato nel video Pensino un 3x5-2 Perché? Perché la sua forza fisica Appunto non è una forza Che caratterizza Che caratterizza Una punta di sfondamento Infatti quindi O meglio quindi Dovete affiancarlo a qualcun altro E successivamente Che chemistry tali consiglio Vi consiglio di utilizzare La chemistry tali Falco Oppure potete utilizzare anche Cacciatore come volete voi Comunque Falco che cosa fa? Aumenta di 2 la velocità Di 2 il tiro E di 2 il colpo di testa Comunque Non parliamo ovviamente Solo degli aspetti negativi Perché mi sembra anche ovvio Dire che questo giocatore Ha praticamente Cioè tutto il resto Delle cose Possiamo dire Sono cose positive Infatti Però io ho scelto Diciamo tra tutte queste sue belle cose 3 pro principali Che sono il passaggio Il dribbling E la finalizzazione Ragazzi Il passaggio Veramente io non me lo sarei mai aspettato Da un giocatore simile Credo di averne provate anche abbastanza E secondo me È il giocatore di FIFA Che ha il passaggio più masico Che dà la palla perfetta Proprio sui piedi Al giocatore che volete voi Dalle statistiche Non ha neanche tantissimo Vabbè È 85 di passaggio lungo Poi 84 di tiro a giro Di passaggio a giro Dei cross abbastanza tattici E invece 88 proprio di cross Comunque ragazzi Queste statistiche per me Non rispecchia neanche questo giocatore Perché per me Appunto nel passaggio Nelle statistiche riguardanti il passaggio E i vari tipi di passaggio Quindi lungo e corto Dovrebbe presentare Ovviamente 99 Perché è veramente una bestia Poi vabbè Del dribbling Non c'è niente da dire Allora solamente perché a 93 Vi fa già pensare A un qualcosa di fortissimo Se in più gli si addicono 5 stelle di mosso abilità E 4 stelle di mosso i piedi debole Cioè Ciao È illegale in 46 stati americani E quindi Questo qua è un altro suo pro Passiamo invece all'ultimo pro Che è quello della finalizzazione Perché ragazzi Pele si presenta con 95 di finalizzazione E vabbè Voi qua dite Beh Non ha 99 Ma vi posso dire Che se voi tirate da una qualsiasi parte Dal campo La palla Il 100% delle volte Raggiunge O il portiere O la porta in generale Poi Non è che vi fa sempre gol Però appunto Il portiere La porta Li raggiunge sempre Ma spesso Mettiamo adesso caso Un 80% delle volte Vi fa anche gol Ma qual è un'altra sua buona caratteristica È il piede debole Infatti Come piede debole Ha 4 stelle di possibilità Che ragazzi Vi assicuro Che sembrano addirittura 5 Infatti Come potete vedere Nello sfondo Mi ha fatto veramente Tanti gol anche di mancino E quindi anche questa Mi sembra una cosa abbastanza buona Poi Andiamogli dunque A vedere In poche parole Quali sono i pro I pro E i contro Come pro Come ho appena detto Ho messo passaggio Drilling E finalizzazione Come contro Ovviamente il prezzo Perché me ne sono scordato di dirlo Ragazzi Quanto costa questo giocatore Questo giocatore costa 15 milioni Che è il prezzo più alto O meglio È l'offerta che è la più alta Che si possa fare Su un giocatore E ovviamente Ma mi sembra palese Non vale questi credit Perché C'è 15 milioni Io infatti all'inizio Non sapevo neanche Cosa aspettarmi Perché Minghe 15 milioni C'è il prezzo più alto Di tutto il mondo di FIFA Mi aspettavo veramente una cosa Stramagica Cosa che appunto Ha dimostrato in parte Di essere Pele Comunque Adesso Non diamo di merda ad osso Cioè è fortissimo Quindi se voi potete permettervelo Prendetelo Anche solo per schvizio Per divertimento Perché poi dovete sentire le reaction Tipo dei vostri avversari Quando vedono che avete Pele In squadra E poi L'altro piccolo difetto che ha È la forza fisica Piccolo Enorme difetto Se si conta che siamo su via 14 Ma soprattutto Come vedete Tra parentesi David Lewis Perché ragazzi Se vi trovate Nella difesa avversaria David Lewis contro È quasi finita Cioè neanche Pele Supera David Lewis E questo vi fa capire Quanto sia bello FIFA Che David Lewis Valutato 82 Riesca a prendere la palla Di un giocatore Valutato 95 Vabbè Ma passiamo invece All'ultima schermata Che è quella appunto Del voto Allora come voto Da 1 a 10 Gli do 9 e mezzo 9 e mezzo Che se vi ricordate È lo stesso voto Che avevo dato A Cristiano Ronaldo A TS E se adesso Voi mi chiedere Mi chiedereste Axel Preferisci Pele O Cristiano Ronaldo Team of the Year Ragazzi Tutta la vita Preferisco Cristiano Ronaldo Team of the Year Infatti Come voto finale A Cristiano Ronaldo Team of the Year Ora come ora Darei 9,75 Perché non 10 Perché devo provare Ancora un 2 giocatori Che potrebbero raggiungere il 10 Quindi io vi farò sapere In un futuro Poi come ho già detto Con che stile di intesa Lo consiglio Lo consiglio con Falco E ragazzi Credo Dopo aver detto questo Credo di avervi detto tutto Spero di non avervi annoiato E detto questo Quindi io vi saluto E vi dico No Ma stiamo calmi Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Mi raccomando Commentate Commentate scrivendo Se volete vedere Come prossimo video Oppure non come prossimo Però come futuro video Uno squad builder Costituito da Pele E altre leggende E Cristiano Ronaldo Team of the Year Io vi dico solo questo Quindi se lo volete Mi raccomando Scrivete un bel commento E lasciate un bel mi piace Vediamo se raggiungiamo i 3000 Mi piace E detto questo Io vi saluto E vi dico Potendo Pala ci sento Al prossimo video Bolla Bolla